Questo è il motivo per cui amo il Brasile. Però mi piace un sacco l'idea di questo video. Ciao a tutti. Oi gente, ciao a tutti siamo Rikki e Teo NDC. Allora scusate se sono un po' così con gli occhi ma perché c'è un sole fortissimo meno male perché io amo il sole. Oggi faremo questa reaction che siamo stracuriosi perché riguarda il covid, il coronavirus, il vaccino. È un remix e tutto quindi non vediamo l'ora di ascoltare la canzone e di vedere il video anche se mi spiace che non riusciremo a capire molto le parole ecco. Però adesso faremo subito la reaction e se non siete ancora iscritti al nostro canale subscribe, iscrivetevi. Se volete seguirci su Instagram Teo Yonse e Bored Richard e iniziamo con la reaction. Vediamo. Adoro tipo Aladino e Genio della Lampada. Mi chamou? Ragazzi sto capendo cosa dicono. Io amo il portoghese. Sarebbe bello. Però non capisco niente. Che tenero, fosse così facile. Come l'ho detto. Vediamo se... Io amo questa canzone. No, non è vero. Non ci credo. È un genio. Adoro. No. Ragazzi, queste persone lavorano lì davvero? Commentate. Oh mio Dio, voglio andare a ballare subito. È il mio idolo. Che figata. Io adoro. Mi sembrano persone comuni. È ancora più bello il fatto che la coinvolte. Ragazzi, ma quando finirà questo coronavirus... Wow. Non mi posso più come chiunque. Teo, lui ha un sacco paura dei serpenti. Odio il serpente. Io odio i serpenti. Tra l'altro, ragazzi, questa canzone è famosissima anche in Italia. Con il venino, con tutti quei serpenti. Sì, mi sa che sono persone che lavorano lì. Davvero bello come idea. Molto bella anche le quadrature. Mi piace quel pezzo. Sono in tantissimi, tra l'altro. Questo è il motivo per cui amo il Brasile. Però mi piace un sacco l'idea di questo video, veramente. Ci ballano tutti. Adoro. Adoro. Avete capito, ragazzi? Ho capito io, quindi. Io amo questa base, follemente. Amo anche quella scena lì, tipo di Aladino e Giri della Lampada. Mi piace un sacco. Mi è piaciuto se al video vabbè la canzone è già, ok, ma adoro tantissimo. Non stufa vai, veramente. Ti viene sempre voglia di ballare un sacco ascoltando questa canzone. Il video mi è piaciuto e tra l'altro c'entra un sacco con questo periodo orribile che stiamo passando tutti per colpa di questo coronavirus che non se ne può più, veramente. Perché non è più vita. Speriamo di tornare come prima, tutti il prima possibile. Davvero, ragazzi. Non posso che fare un applauso a MC Fioti. L'ho pronunciato bene? Commentate. Perché è stato un genio, letteralmente. Allora, la canzone noi la conoscevamo già perché... È famosissima anche qua in Italia. Il video non l'abbiamo mai visto, quindi se volete la reaction commentate. Però ho apprezzato tantissimo che lui ha sfruttato la sua popularità e una sua così grande hit. Perché penso sia una delle hit, se non la più grande del Brasile, per una causa così importante. Perché davvero, io sono stato informato, letto, sentito, ne parlano anche qui in Italia, di quante vittime abbia avuto il Brasile per il coronavirus e di come il Presidente non stia prendendo così seriamente la causa. Io non sono nessuno per giudicare, non sono nessuno per esprimere opinioni, diciamo, tecniche, scientifiche su questo argomento. Però penso che il vaccino sia una cosa importantissima e l'idea di fare propaganda di MC Fioti grazie a una sua hit è un qualcosa davvero che va oltre il geniale. L'ho apprezzata ancora di più la canzone proprio per questo motivo. Davvero, è un grande. Sono davvero contento di aver portato questo video perché noi ragazzi ci sentiamo davvero tanto legati a tutti voi e in generale al Brasile. E quindi è bello, nel nostro piccolo, condividere questa hit che però porta dietro anche un importante messaggio. Quindi mi raccomando, il giorno che vi chiameranno per fare il vaccino, voi prendete il cellulare, mettete boom boom tam tam e andate a vaccinarvi. Fateci sapere voi cosa ne pensate, lasciate like se vi è piaciuta la reaction, se non siete ancora iscritti al nostro canale, subscribe, iscrivetevi, consigliateci altre reaction e se volete seguirci su Instagram, teo yon, se vuoi redrichard e ci vediamo con un prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!